Te le scommesse ad Ascot. Per Ascot, le scommesse sono aperte. Permesso. Ehi, Sten, sono in tempo, vero? Ci provi ancora? Sì, ma questa è la volta buona. Grazie. Hanno già pagato. E cosa fai qui? Sto giocando, sto facendo la mia fortuna. Che altro? Non giocare più ai cavalli, pensate...